ciao amici chi non ha un frullatore a casa scopriamo una ricetta gustosissima per colazione o come spuntino è una ricetta veloce e detossinante che non impegna la digestione e che ti lascia carico di energie se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco come si prepara frullato di ananas e cocco ricetta vegana per due persone 4 cucchiai di fiocchi d'avena 300 millilitri di latte di soia non zuccherato 100 millilitri di latte di cocco non zuccherato mezzo ananas due banane 1 ammorbidire l'avena ammollate i fiocchi di avena nel latte di soia e nel latte di cocco 2 tagliare la frutta nel frattempo sbucciate l'ananas tagliato la metà per lungo e eliminate il torsolo centrale tagliate la polpa di ananas a dadini sbucciate le banane e tagliate le a rondelle 3 mescolare frutta e cereali versate nel frullatore i fiocchi d'avena il latte di soia e cocco i dadini di ananas e le rondelle di banana 4 frullare tutto frullate fino a ottenere un composto omogeneo tenete in frigo fino al momento di servire e poi gustatevi il frullatone di ananas e cocco ananas e cocco sono due frutti esotici di cui non potrete più fare a meno dopo averli assaggiati e abbinati insieme per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un clic e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano i suoi pregi principali freschezza e detox proprietà degli ingredienti principali l'ananas è un frutto dolcissimo ipocalorico che contiene bromelina il cocco è altamente nutriente ricco di fibre vitamine e minerali i fiocchi d'avena sono cereali con proteine grassi insaturi e vitamina b hanno la maggiore concentrazione di vitamine e sali minerali il latte di soia è ricco di proteine vegetali grassi e fibre inoltre è meno grasso e ha meno calorie rispetto al latte vaccino la banana aiuta a contenere il gonfiore addominale ed è amica delle diete i fiocchi di avena e le banane sono ricchi di vitamina b6 che sostengono il sistema immunitario l'ananas contrasta l'acidità e favorisce l'eliminazione delle scorie i frullati sono più facili da digerire del cibo solido così il corpo più energia per fare detox naturale mangia e bevi consapevole e vivi meglio ciao